Ben trovati in un aggiornamento con il TG di 3B, diamo subito un'occhiata alla previsione per i prossimi giorni perché nuovi cambiamenti sono all'orizzonte. Via l'anticiclone dal nord Italia, l'avevo anticipato, era veramente debole, effimero perché mercoledì una nuova perturbazione da ovest dall'aperto atlantico raggiungerà Francia, Germania ma anche le nostre regioni causando un deciso peggioramento del tempo. Meglio al sud, ecco più nel dettaglio guardate le piogge che già in tarda mattinata bagneranno il nord ovest in estensione entro la sera anche a Venezia ed Emilia Romagna. Inizialmente buono il centro sud, peggiora però sulla Toscana e poi Alto Lazio, Umbria durante la serata con qualche debole fenomeno. Nubi in aumento, nubi alte anche sulle rimanenti zone del sud, comunque qui tra mattinata e pomeriggio un po' di sole, clima piacevole, valori primaverili perché i venti saranno in rinforzo di Libeccio e Scirocco. Invece temperature lieve diminuzione al nord tanto che sull'arco alpino, ecco qui nel dettaglio, la neve scenderà dai 1300-1700 metri sulle Alpi piemontesi, ovviamente sul Triveneto quota neve un pochino più elevata. Comunque insomma ritornerà un po' di neve sulle nostre montagne del nord. Giovedì poi perturbazione che si allontana, ancora al mattino guasterà il tempo del Triveneto, di parte Emilia Romagna, regioni centrali, basso Adriatico, qualche rapido piovasco temporale inizia a migliorare invece sui settori nord-occidentali. E in sintesi, il fine settimana vi dicevo l'anticiclone in questo periodo non è molto forte sul Mediterraneo. Si sposterà con i suoi massimi nuovamente verso nord, verso le isole britanniche, favorirà la discesa di una massa d'aria fredda per il periodo dalla Scandinavia verso i Balcani, ma in fronte freddo potrebbe vallicare l'arco alpino a portare un po' di instabilità su parte del centro-sud ed il nord-est. Ne riparleremo intanto i dettagli come sempre sul nostro sito web.